Quattro indagati per la morte di un 86enne al pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso. La denuncia è stata presentata dai familiari della donna deceduta ai carabinieri del capologo di regione. I fatti, emersi solo nelle ultime ore, rivelano che la donna, accompagnata dai figli, era stata portata al pronto soccorso del Cardarelli lo scorso giovedì, perché l'86enne lamentava forti dolori addominali. Dopo i primi accertamenti dei medici, la donna era rimasta in attesa di una diagnosi precisa. Tuttavia, la tragica svolta nelle prime ore del mattino successivo, venerdì 18 aprile, quando la donna è improvvisamente deceduta sempre al pronto soccorso. Dopo la denuncia dei familiari, la Procura della Repubblica di Campobasso ha ordinato un'autopsia per chiarire le circostanze della morte, mentre i familiari si sono rivolti all'avvocato Silvio Tolesino per seguire gli sviluppi dell'inchiesta. La Procura della Repubblica, intanto, avrebbe già iscritto quattro persone sul registro degli indagati, con l'ipotesi di omicidio colposo per poter aprire il fascicolo d'indagine. Inoltre, anche l'ASREM starebbe già portando avanti gli accertamenti del caso per capire cosa sia accaduto realmente al pronto soccorso del Cardarelli tra giovedì e venerdì della scorsa settimana.